Continua la maratona di solidarietà per chi col piccolo Francesco di Stella Cilento gavermente ammalato. Dopo l'appello lanciato da mamma Simona per una raccolta fondi da destinare alla copertura dei costi di una cura sperimentale in tutto il Cilento nelle ultime settimane è stato un fiorire di iniziative informate alla solidarietà. Sabato 28 settembre sarà la volta di Omignano Scalo. Il Tante le società sportive che hanno aderito all'iniziativa promossa dalle associazioni del territorio e prontamente patrocinata e supportata dal comune di Omignano grazie alla sensibilità del primo cittadino Raffaele Mondelli e dell'assessore Leonardo Vaccaro. Gli intervenuti potranno assistere ad esibizioni di calcio, ginnastica artistica, arti maziali e ballo. All'esterno del palazzetto a cura delle proloco e delle associazioni che hanno aderito alla manifestazione sarà possibile gustare dolci e diversi piatti ispirati alla tradizione cilentana. La giornata si concluderà alle 21 e 30 con la rappresentazione della commedia e lingua e dialetto cilentano il fidanzato fiorentino di Massimo Sica portata in scena dalla compagnia teatrale i 100 crammatini russi di piano vetrale di Orria i cui componenti non hanno voluto far mancare il proprio contributo motivando la loro presenza con le parole di Paolo Grassi. Il teatro per la sua intrinseca sostanza è fra le arti la più idonea a parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività. L'intero ricavato derivante dalle offerte dei partecipanti sarà devoluta alla famiglia di Chicco. L'appuntamento dunque per sabato 28 settembre presso il paralento di Omignano Scalo un sorriso per Chicco.